E senti, adesso non posso parlare. Ti chiamo io stasera, eh? Ciao. Problemi sul lavoro? No, no, non ti preoccupare. Ottimismo, Silvia, ottimismo. Che schifo! Porca trotta! Mi hanno rifiutato il trasferimento a Milano. Mi sono spacciato per disabile. Beh, non voglio disturbarla ulteriormente. Vai, arrivederci. Licenziato, trasferito. Al sud, al sud, tipo Bologna. Sei stato trasferito vicino a Napoli. A Napoli? Ci resterai due anni. Due anni? Oh mia bella madunina Che te brille te lontano Ma perché mi hanno detto che qui al meridione facciamo un gran caso. Prima la posta la portavano i cammini. Poi il lettore era un bad will. Che fa come? Mi piglia per il culo. Mi hanno mandato. Apposta per farvi lavorare. Quindi cerchiamo di ottimizzare il lavoro. Grazie. No, è l'odore di snaffa d'alina. Che mia mamma la mette ovunque. Ma perché ci sono i topi? Eh, i topi saranno. Io non mi sto pettando. La vedono qui. No, sono fettato monologale a fianco. E tu? Quella è cioccolata. Mi schia dal sangue di maiale. Ma vederli così sembrano normali. No, viva! In realtà sono scuri, piccoli, tracagnotti. Buongiorno a tutti. Se gli fai vedere che hai le palle, scappano. Non mi costringo a metterle una nota a disciplinare. Ma troppi a nevauro. Non farei temerare come il tuo solito, eh. Direttore! Direttore! Sabina! Chiudo! Non capitate paura, direttore. Vi voglio fare una sorpresa. Ognuno di noi ha messo qualcosa. Per cominciare può andare bene, no? È meraviglioso. Quant'è? Noi l'abbiamo fatto per amicizia. Amicizia? Non ci conosciamo nemmeno. Poi ci conosceremo. Non ci saremo. Ah, eh. Che si fa stasera? Abbiamo organizzato niente? Direttore. Venerdì. Non tornate a casa. Direttore, quando un forestiero viene al sud e piange due volte. Quando arriva, è quando parte. Io adoro il sud! Io domani vengo lì da te. No! Non puoi venire da me. È pericolosissimo. Arrivano! Azione! Avivare! Vieni! Vieni! Vieni!